Buongiorno amici di Leggeracolori, quest'oggi abbiamo letto e recensito per voi il libro Nibiru di Karl Tembro. È un libro particolare, quello che abbiamo recensito, che vanta la traduzione e l'introduzione a cura di Pablo Soereni. Il libro è davvero una pubblicazione fuori dalle righe. Pensate che è scritto in una maniera davvero alquanto strana. Ci sono delle cancellazioni nelle pagine, dei riquadri con degli appunti scritti in una lingua sconosciuta, tra l'altro con le lettere al contrario. Quindi è davvero avvolto in un allone di mistero, come per l'appunto il nome dell'autore che è Karl Tembro e sembra sia uno pseudonimo utilizzato da chi ha creato questa storia, questo romanzo. Io volevo introdurvi proprio il libro leggendo le prime righe che dicono c'è questo libro che parla dell'assurdo, è pieno di frasi fatte, di cliché. E c'è anche un uomo che vaga nelle pagine di un libro che pare sia esistito solo nella mente malata di chi lo ha scritto. E infine c'è una voce, una voce fine, sottile, a tratti stridula, che ti tortura la mente, che chiede e vuol sapere di cosa parla quel libro. Ecco, e da qui parte un po' la spiegazione di questo personaggio principale, di quest'uomo che è chiuso nello studio di casa sua a traccanare whisky, a bere, a viaggiare nella sua follia, nella sua mente. Io sono andato un po' a curiosare in internet, cercando qualche appunto sull'autore, sul libro, ma è davvero molto difficile trovare qualcosa che spieghi un po' chi è questo autore, questo personaggio. Però in un sito di vendita di libri online, tra l'altro il libro è stato pubblicato con YouCanarpint, quindi un canale di autopubblicazione, ho trovato una breve trama che dice, da quasi vent'anni dalla sua prima pubblicazione, quello che è uno dei più importanti quotidiani americani ha definito un volgare sogno metropolitano bagnato da un noir fantastico. Viene pubblicato, nella sua versione completa, non privata quindi, dei famosi tre capitoli censurati, Nibiru, di Carl Tembro. Un'opera surreale, dei tratti orrorifici che trasforma il mondo quotidiano in qualcosa di assurdo. Una macabra, rigorosa, progressiva allucinazione che esplode in una lunga discesa verso l'abisso della follia umana. In effetti andiamo un po' ad indagare nella follia umana con questo libro, proprio perché l'autore ha descritto questo personaggio folle che leggendo le pagine del libro sembra che sia proprio lui che scrive, che descrive un po' la sua vita. Io nell'introduzione l'ho paragonato un po' al Jack Torrance, del capolavoro di Stephen King, di Shining, poi tra l'altro è diventato un film cult. Ho paragonato un po' questo Jack Torrance al personaggio principale di questo libro, perché sono accomunati i tie due dalla follia umana, alcune caratteristiche anche del carattere. diciamo che lo scrittore ha messo su quest'opera che sicuramente verrà apprezzata molto dagli amanti del genere. È un libro scritto in una maniera particolare, io fino ad oggi forse non avevo mai letto una pubblicazione scritta in questo modo. Come ho scritto nella recensione, non aspettatevi da questo libro un linguaggio accademico, da premio Campiello, ma tutt'altro aspettatevi il sangue, l'alcol, le paranoie, le ipocondrie ossessive di questo protagonista. È una storia un po' macabra che parla di questa persecuzione mentale, di questo fuggire dalla società, di rinchiudersi un po' con i propri demoni. E quindi è sicuramente un libro abbastanza pesante, ma che secondo me merita un approfondimento. Come vi dicevo, il personaggio principale beve molto. Già dalle prime pagine si capisce che è turbato, è ossessionato da qualcosa di terficante, da un evento particolare che poi ha fatto esplodere dentro di lui tutti questi sentimenti. E in effetti leggendo pagina per pagina troviamo poi delle domande che si ripetono, tipo perché lo hai fatto? Quindi un'inquisizione. Più avanti si va con la lettura e si trovano delle altre domande che ci fanno pensare a cosa potrebbe aver fatto quest'uomo. Tipo una domanda che gli chiede, come hai potuto? Non vedi che sono solo una bambina? Ecco, degli strani discorsi, delle strane domande che ci fanno chiedere, ma quest'uomo è lui il mostro o è soltanto tormentato dai suoi mostri, dai suoi demoni. Non voglio svelarvi nulla di più di questo libro, ma voglio semplicemente consigliarvi questa lettura perché, a parte che regge benissimo come storia, e poi sembra sul serio il manoscritto maledetto di un folle scrittore. Quindi io da amante del brivido degli autori come Edgar Allan Poe, come Stephen King, non posso che consigliarvi questa pubblicazione perché credo che a distanza di tempo ne sentiremo parlare perché è un libro davvero particolare. Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione e spero quindi di aver suscitato in voi un po' di curiosità per questo autore, per questo personaggio. Vi saluto al prossimo appuntamento. Ciao!